Ciao a tutti e benvenuti in Why Famous, l'unica rubrica dove parleremo dei fenomeni di culto esplosi in ambito fumettistico, videoludico e chi più ne ha più ne metta. Con questa nuova rubrica vi dirò perché secondo me un determinato prodotto ha sfondato rispetto ad altri e perché certi fenomeni sono diventati un vero e proprio emblema nella cultura pop di tutto il mondo, nel bene e nel male. Infatti certe cose diventano famose per mode passeggere o per manovre di marketing serrate. Spesso invece il prodotto è effettivamente di qualità ed è riuscito a lasciare un marchio indelebile nei nostri cuori. Oggi parliamo di videogiochi ed in particolare del testimonial per eccellenza della Nintendo, nonché portavoce del mio genere videoludico preferito, ovvero il platform. Stiamo parlando ovviamente di Super Mario. Quest'oggi a parlare con me dell'idraulico buzzone ci sarà un ospite d'eccezione, che proprio come me ama i platform vecchio stile ed in particolare i giochi belli, ovvero Marco Merrino. Lascio a lui la parola per introdurre l'argomento. Ehi ragazzi! Nel corso della storia siamo stati abituati a tantissimi tipi di platform. Abbiamo avuto i livelli super veloci di Sonic the Hedgehog, cicatelici e coloradissimi. I livelli intricati e pieni di passaggi segreti di Alex Gid, Super Frog e la famiglia Adams. Schemi originali e pieni di inventiva di giochi un po' più di nicchia come Spiru, i Puffi e Vectorman. La fantastica gola profonda di Kirby, la passione per la banana di Donkey Kong, il leggendario Castle of Illusion di Topolino, l'aria scherzosa energia di Banjo e Kazooie, i livelli a tunnel e atmosfera ticchi di Crash Bandicoot. E poi se avevamo Crash non ci facevamo mancare anche Spyro, mondi vastissimi ed esplorabili lungo e largo alla ricerca degli oggetti utili al completamento del gioco. I millemila gadget di Ratchet & Clank, il sistema free roaming di Jack & Dexter, Rayman che è riesploso adesso con Origins e Legends, uno più bello dell'altro. Allora bimbi, diciamocela tutta, di platform ne abbiamo visti veramente tanti, ma questi personaggi più o meno famosi devono tutto a lui, alla leggenda, al precursore dei platform fatti con i controcazzi, ovvero al succitato Mario Mario. Ma perché proprio l'idraulico italiano è riuscito a consagrare questo genere? È perché noi i suoi stessi video gioi come tendenza assoluta in quel periodo. E soprattutto come è riuscito a non perdere mai smalto in tutti questi anni? Possiamo dire tranquillamente che il successo di Mario è riassumibile in 5 punti di forza, che io e Marco oggi vi andremo ad elencare. Punto numero 1. Mario è un inventore. In molti si sono sperticati per decidere quando e con che gioco è nato il platform. L'ipotesi più accreditata è che il primo vero e proprio videogioco a piattaforme fosse stato il primissimo Donkey Kong, uscito nel 1981. Anche se molti sostengono che ci siano stati dei precursori di quest'ultimo. Comunque sì, in quel periodo i platform erano statici, si svolgevano in ambienti fermi, dove tu semplicemente dovevi muovere il tuo personaggio in lungo e in largo per raggiungere un determinato obiettivo. Anche in giochi come Pitfall, dove il tuo avventuriero effettivamente percorreva un percorso lineare, non c'era alcun tipo di scrolling, ma solamente schemi che cambiavano a seconda dello script. Questa storia andò avanti per un bel po', finché non uscì Super Mario Bros. E da lì niente fu più lo stesso. I livelli erano dinamici grazie allo spostamento da sinistra verso destra. C'era una varietà di livelli e nemici incredibili, addirittura quest'ultime erano classificati per nomi e razze. Power up che ti facevano diventare più grande e addirittura sparare palle di fuoco, senza contare la stellina che ti donava l'invincibilità momentanea. Trucchetti che ti permettevano di saltare mondi interi e quindi di finire il gioco in brevissimo tempo. Oppure passaggi segreti capaci di trasportarti nel Minus World, ovvero il mondo meno uno. Immaginatevi i giocatori dell'epoca che di punto in bianco si ritrovano questo personaggio simpatico e fuori dagli schemi, inseriti in un gioco mai visto prima. Quegli stessi giocatori che fino a pochi anni prima potevano vantarsi di essere pro a Donkey Kong e riuscendo a finire il gioco prendendo anche un ombrello, un vater e una specie di piatto di zuppa. Boh, non ho mai capito cosa cazzo fosse. Super Mario Bros ha gettato le basi per un nuovo sistema di intrattenimento, dove il platform non era solamente sconfiggere un nemico o arrivare alla fine di uno schema. Stavolta il gioco era azione, avventura, salvare la principessa, difficoltà in continua progressione, segreti passati da orecchio a orecchio fra amici. Era poter dire sono arrivato alla fine del gioco e ho rotto il culo al boss. Da lì in poi tutte le case videoludie che avessero voluto fare un videogioco a piattaforme avrebbero dovuto per forza di cose rendere grazie a Mario e a Miyamoto per le grandiosi idee mai viste prima. Da quel momento in poi niente sarebbe stato più lo stesso. Infatti la Nintendo, dopo il successo di Super Mario Bros, che vendette oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo, decise di dare il via al boom di Mario, rendendo il personaggio una vera e propria puttana. Ed eccoci infatti al punto numero 2, l'invasione di Mario. La Nintendo, ben conscia del successo dell'idraulico baffuto, decise di dare il via allo sviluppo di una moltitudine di giochi con schiaffato in copertina il nome di Mario. Così i giapponesi facevano Oh, Mario, oh, e lo compravano. Il brand storico di Mario Kart, dove vediamo il nostro protagonista ben lontano dall'avventura e classica piattaforma fra Goomba, Koopa e Bowser. Ma bensì lo vediamo a bordo di Kart, mentre sfida i personaggi più famosi del Regno dei Funghi, fra percorsi completamente buttati di fuori e gadget leggendari. Oppure Paper Mario, dove anche qui ci allontaniamo dalle piattaforme per tuffarci nel GDR. Ebbene sì, combattimenti a turni, statistiche e punti a distribuire al nostro team. Eppure ragazzi queste due saghe sono sempre state amate da pubblica e critica e fanno tuttora divertire milioni di videogiocatori in tutto il mondo, grazie alle loro innovazioni e alle loro aggiunte sempre interessanti e mai banali. Poi abbiamo i Mario Party, Mario Pinball, Mario Soccer, Mario Golf, Dr. Mario, Hotel Mario, Mario Fava, Paolo Limiti vs Mario. Poi abbiamo tutti gli altri giochi in collaborazione con gli altri personaggi, Mario vs Wario, Mario vs Donkey Kong, Mario e Luigi a Borgabugiano. Gli spin-off, i remake, i remake con l'aggiunta dei livelli, i remake con la maremma puttana messa a peorade e se ne pole più. Anche se in mezzo a tutto questo c'era molto pattume, gli oltre 100 titoli con all'interno Mario hanno fatto sì che il personaggio fosse spammato un po' ovunque. Il marketing invasivo funzionò alla grande e ancora adesso dal bambino di 5 anni fino alla vecchia di 95 che ti prenda ombrellate se l'aiuti a attraversare la strada conosce Super Mario. È il topolino dei videogames. Alternato tutti questi giochi più o meno riusciti, il platform non è mai morto, anzi è stato il continuo punto di riferimento quando si vuole parlare del nostro beniamino. E qui arriviamo al punto 3. Il rinnovamento incessante. I giochi della saga principale di Super Mario sono sempre stati una sorpresa, perché anche se le meccaniche erano simili, non si è mai percepito un senso di già visto. In ogni titolo a due dimensioni venivano aggiunte importanti novità, che implementavano valore al gioco facendo evolvere il brand passo a passo. L'introduzione di nuovi power-up che trasformavano il personaggio in qualcosa di mai visto. L'aggiunta di Yoshi in Super Mario World, che si poteva cavalcare per andare più veloce o semplicemente per mangiare nemici davanti a noi. Addirittura, a seconda del guscio che ingoiava, poteva sputare fuori un'arma diversa. La grafica che migliorava di anno in anno permetteva di avere livelli sempre più colorati e curati nei minimi dettagli, fino ad arrivare a suddividere il mondo di gioco in zone ben precise e caratteristiche, con conseguenti ornamenti e decorazioni. Mario arrivò addirittura sul Game Boy, con la serie Super Mario Land, dove ci trovavamo a percorrere zone realmente esistenti nel nostro pianeta, come l'isola di Pasqua o l'antico Egitto. I duelli in volo, nuovi boss come i figli di Bowser, nuove razze di nemici, dei livelli dilazionati in una mappa ripercorribile a nostro piacimento. Livelli sbloccabili tramite pulsanti nascostissimi o tramite vie segrete che svelavano nuove zone nella suddetta mappa. I livelli intrippanti all'interno del castello de Bo, dove dovevi girare come un coglione per mezz'ora la ricerca della porta giusta da aprire per levarti finalmente di culo. E molto 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 altro. Diciamo pure che Mario, fin da quando è stato in 2D dal NES fino ai giorni d'oggi con i recentissimi capitoli per i Wii U, ha sempre cercato di proporre novità e raramente a deluso i fan. Anche se io e Marco siamo rimasti delusi dalla troppa semplicità di New Super Mario Bros 2 e poi soprattutto da quella merda di Super Mario Bros 2. Una scopiazzatura di un gioco famosissimo in Giappone chiamato Dogi Dogi Panic, semplicemente con i personaggi del mondo di Super Mario. Quando gioco a un platform con peronistolo idraulico ciccione, io voglio mangiare funghi, schiacciare cumba, bruciarmi almeno 20 livelli a botta. Io non voglio coltivare e lanciare rape come un coglione in un ambiente spoglio e morto. E sapete qual è la cosa bella? Che questa meta arriva da solo qui in Occidente. Perché in Oriente gli sono beccati il vero seguito di Super Mario, che qui arriverà un po' più tardi, col nome di Super Mario Bros The Lost Levels. Ma vaffanculo! E a proposito di cambiamenti sostanziali, il brand dello Stura Cessi ha fra i suoi panti quello di essere sopravvissuto e non solo, quello di essersi migliorato con il passaggio da 2D a 3D. Molti brand, non solo platform, con questo cambiamento si sono andati a sputtanare in maniera incredibile, perdendo quella magia che li contraddistingueva in 2D. E se proprio volete degli esempi di saghe platform che si sono andati a sputtanare, basti pensare a quella di Mega Man o Sonic. La nostra cara icona baffuta, come se già avesse notato in un contesto 3D da anni, rinasce con Super Mario 64. Esatto, esatto, uno dei tanti titoli ad aver marchiato nel culo il numero 64 per sottolineare la potenza grafica della nuova console. Ma uno dei pochi giochi ad essere motivo di milioni di vendite di quest'ultima. Non si trattava più di giostre e due salti in un universo che si può spostare o solamente a sinistro o solamente a destra. Qui la libertà di movimento doveva vedersela con un nuovo termine. Open world. E cazzo se c'è riuscita. Super Mario 64 vanta un sistema di movimento e controllo fra i più fluidi che si possano trovare in un contesto 3D. Grazie al controllo analogico, infatti, ogni azione del caro idraulico, corse, capriole, salti, diventa intuitiva e cola fuori dal joypad come se fosse burro. Questo aiutato da Mondi nella difficoltà perfettamente equilibrata. Addio cari del cazzo dovuti alle frecce direzionali, sempre a premerli come forzennati per perfezionare i salti. L'innovazione del titolo non risiedeva però solo nei controlli e nel mondo 3D. In Super Mario 64 era fondamentale la raccolta di determinati oggetti per mandare avanti il gioco stesso. Qui non si trattava più di finisci livello, finisci livello, finisci livello, finisci castello di intermezzo, finisci livello, sconfiggi boss, finisci gioco. Qui il successo dipendeva dalla tua minuziosità nella raccolta di tutte le stelle. Stelle disseminate ovunque nei mondi, alcune facili da raggiungere ed intuitive, mentre altre richiedevano impegno e power up trovabili solo dopo nel gioco. Quella che prima in Mario era solo una voglia di rigiocarsi i mondi per magari prendere tutte le monete e fare punti più alti, stavolta si trasformò in un ritorno nei livelli necessari al completamento del gioco. Ottima mossa Nintendo! Il videogiocatore imparava giocando e giocava imparando quelli che sarebbero stati gli elementi fondatori di ogni buon platform 3D. Il mondo videoludico si trovò ancora costretto a doversi ispirare a Mario. In quel periodo e negli anni a venire. Il successo di questo brand era al massimo e giustamente la gente iniziò a chiedersi quanto sarebbe durata questa scesa al potere. Quanto sarebbe durata una singola icona videoludica? Vecchio o nuova che sia, Miyamoto prima o poi avrebbe finito e colpin' canna. Ma i caricatori della Nintendo di lì a poco non si rivelarono poi così vuoti. E non una volta, ma ben due. E proprio due furono i titoli che reinventarono un'altra volta Mario sotto gli occhi attoniti e portafogli fumanti di tutto il mondo. Super Mario Sunshine rivoluzionò ancora il gameplay già visto nel 64, aggiungendo al tutto una caratteristica fondamentale. Lo Splunk 3000. Mario, grazie a questo gadget, è capace di sparare getti d'acqua per colpire gli avversari. È capace di volare, planare e darsi una forte spinta utilizzandolo come jetpack. In più, il mondo dove il protagonista si muoverà non sarà più il regno dei fughi, ma Delfinia. Una località turistica che Peach e i Todd decidono di visitare. E dove Mario verrà arrestato con l'accusa di essere un imbrattatore seriale. Mario quindi dovrà scegliere in completa libertà quali livelli affrontare, saltando, schiacciando, volando, inondando nemici. Oppure ingoiandoli col suo amico Yoshi, ritornato in 3D. Tutto questo per ripulire la città e scoprire finalmente chi sta smerdando in tutti i sensi il suo nome. Anche il passaggio su Wii fu splendido, basta pensare a Super Mario Galaxy, che va ad aggiungere nuovi effetti 3D al mondo dello stasamerde non strano. Non più Open World e non più Mario versione Blastoise, perché adesso si va in giro per galassie intere, sfruttando gravità ed effetti dinamici. Si salta da pianeta a pianeta, facendo vibrare il Wiimote e stando attenti durante i voli fra le stelle. E non è finita, durante questi passaggi ci saranno dei buchi neri super massicci che cercheranno di risucchiarci e farci perdere una vita. Tutto questo per prendere stelle, astroschecce e finalmente sconfiggere un'altra volta il malvagio Bowser. Super Mario Galaxy 1 e 2 sono un tripudio di colori, suoni, musiche e meccaniche di gioco. Sono un coronamento splendido di una carriera videoludica con i controcognoni. Il terzo punto si conclude in maniera esemplare. Ogni volta che un videogiocodone vorrà comprare un gioco di una saga famosa, che si rinnova ogni titolo, ma che rimane comunque di qualità, dovrà buttarsi su Mario e andrà al colpo sicuro. Mario è stato quasi sempre una certezza videoludica e questo rafforza il pubblico. Punto numero 4. Mario e dintorni. Un altro pilastro che sostiene il grandissimo mercato di questo brand sono i personaggi secondari. Sembra incredibile, ma ogni nuovo personaggio introdotto nel mondo di Mario fa subito presa sul pubblico. E Nintendo ovviamente sfrutta subito la cosa sfornando una miriade di giochi anche su di loro. Pensate ai favorosi Luigi's Mansion, dove Luigi, il fratello di Mario, non sarà più un comprimario, ma bensì sarà l'eroe assoluto e grazie alla sua aspirapolvere e al suo poco coraggio cercherà di salvare il suo fratello. Mario! Wow, aspettate, è di Wario dove vogliamo parlarne. L'antitesi ideale dell'eroe perfettino. Un boss che diventa protagonista. Capito gli stratosferici per Game Boy, quali Wario Land e Wario Land 2, dove il nostro protagonista scorreggione e mangiaio, vuole percorrere i livelli, battere il boss solo per ottenere i soldi. Lui vuole solo quelli. Fa un cuo l'amicizia, fa un cuo l'amore, voglio essere ricco e fare il culo a Mario. Per i soldi Wario si trasformerà in zombie, in pipistrello, si schiaccerà, la sua testa diventerà un pallone per volare via. Farà di tutto. Secondo me, i gioi di Wario molte volte hanno rotto il culo a quelli di Mario, proponendo delle novità talmente assurde che semplicemente l'appeal innocente, perfettino di Mario, non avrebbe mai permesso. Purtroppo però Wario, dopo un capitolo deludente per GameCube, dopo le stronzatine tocca e moviti dell'Advance e del DS, sembrerebbe morto. Ma sinceramente io aspetto una sua resurrezione, perché secondo me è possibile, visto il successo di Donkey Kong Country Returns, che ha riportato in auge in 2D Donkey Kong e DD Kong. Oltre ai giochi di Wario troviamo quelli con protagonista Yoshi, colorati come se fosse un grande disegno a tempera, e strutturati per l'esplorazione e il lancio di voa selvaggio. Belli o brutti che siano, questi videogiochi spin-off hanno accresciuto la popolarità di Mario, e hanno dato manforte per ampliare il suo mondo. E a proposito di popolarità, concludiamo con il quinto punto. Mario stesso. Mario è il ritratto del personaggio giovane dentro, fresco e simpatico a pelle. Fu il salvatore di un mercato videoludico in crisi. È il simbolo del videogame fatto come Dio comanda, è un inventore e un rinnovatore. Mario è un personaggio che ha dettato la moda e che ha inventato numerosi simboli della pop culture. Il fungo, il fiore, il suo cappello caratteristico, tutte cose che troviamo su magliette, peluche, zaini, poster, portachiavi, in Giappone addirittura le macchine. Gli effetti sonori sempre uguali e riconoscibilissimi, i nemici che abbiamo imparato ad amare più che ad odiare. Come fai ad odiare un Koopa? Quella troia della principessa Pitch che si deve far rapire. I tolbi che devono dirti quindi Your princess is the mother castle. Fa male is the mother castle. Hanno fatto persino un film su Super Mario. No, non è mai successo! Ok Marco, però dobbiamo parlare. Ho detto che non è mai successo! Comunque sia, il punto di forza di questo personaggio e di tutto il mondo che ruota intorno a lui, è proprio lui. Mario è un fenomeno sociale, Mario è immortale e tutti lo adorano. Videogiocatori e non. Allora bimbi, la prima puntata di Why Famous si conclude qui. È un esperimento e quindi se vi è piaciuta mettete mi piace, condividetela su ogni social network possibile e insomma sostenetela come potete. Un'altra cosa molto importante. Qui si parlerà di fenomeni, come abbiamo detto all'inizio, negativi e positivi. Quindi potete chiedermi di parlare di qualsiasi cosa. Come fare però? Andate sulla mia pagina Facebook, che trovate qui sotto, nel link in descrizione, e partecipate al sondagione della seconda puntata di Why Famous. Potete inserire la vostra possibilità o votare quelle che ci sono già. Oppure su Twitter aggiungete l'hashtag Why Famous e scrivete cosa vorreste vedere. L'argomento che avrà preso più voti sarà trattato nella prossima puntata. La puntata finisce qui. Un bacione dal vostro amico Dario Moccia. E dal vostro amico Marco Merrino. È strutturato per l'esplorazione e il lancio di Wada Selvaggio. No, non si è rotto! Non è possibile. Non si è rotto. Per favore fai vedere che non ci vedo. È nuovo ragazzi, non si è rotto. Allora. Riproviamo. Te lo spiace in testa. È l'ugna. No, non si è rotto. No, non si è rotto. No, non si è rotto.